Fox, ancora una volta migliora in campo, cosa si può dire? No, 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 questo me l'hanno dato per pietà, perché non stavo molto bene. Penso che oggi il grande merito sia stato De Trevor un'altra volta, che ha giocato una grande gara, il buon inserimento De Simo, un po' cose che ci hanno permesso di vincere la partita. Siamo andati ad alti e bassi, però le vinciamo, quindi speriamo di continuare così. Come a inizio il campionato state dimostrando che è importante il gruppo, chi entra comunque fa sempre bene. Sì, per fortuna se c'è qualcuno che non sta tanto bene o gioca male c'è sempre qualcuno dietro che approfitta di questa assenza. Oggi è toccato a Simo e direi che è andata molto bene per lui, ma molto bene per la squadra, perché il suo ingresso ha permesso di mettere a posto un po' di ricezione e quindi siamo andati meglio tutti quanti. Possiamo dire che siete il re del tie-break? Hai visto? Grande gara. Vuol dire che combattiamo, combattiamo, quindi questo ci fa piacere.